Benvenuto nel mio canale YouTube dedicato ai mezzi storici. Ti propongo un video relativo alla bellissima Cadillac Serie 62 Cabriole, modello dell'anno 1950. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Spero tu abbia gradito questo video. Se vuoi, commenta, condividi, metti un bel mi piace, ed iscriviti al mio canale YouTube, per essere costantemente aggiornato sui futuri video in pubblicazione. Arrivederci dunque al prossimo video. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!